La rivoluzione scatterà il 3 giugno. Da quella data i comaschi partiranno con la raccolta differenziata. I rifiuti verranno divisi in cinque diverse frazioni. Bidone marrone per l'umido, blu per carta, cartone e tetrapack, verde per vetro e alluminio, sacco giallo per la plastica e sacco trasparente per l'indifferenziata. Da adesso in poi Palazzo Cernezzi avvia una massiccia campagna informativa, previsti anche incontri pubblici. A breve ciascun residente riceverà una lettera firmata dal sindaco di Como, Mario Lucini, e dall'assessore all'ambiente Bruno Magatti, oltre che dai vertici di Aprica, società che gestisce il servizio. Nel documento sarà illustrato nel dettaglio il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nel capoluogo. Le modifiche riguarderanno un totale di oltre 40.000 utenze. Contestualmente viene organizzata, oltre all'informazione, anche la distribuzione dei kit, che significa per i condomini i bidoni che sono necessari per le varie raccolte, per i singoli cittadini, il cestello nel quale puoi raccogliere l'umido, la tesserina per accedere alla nuova piattaforma che Aprica dovrà realizzare a breve. Cinque colori e un obiettivo, passare dal 38 al 65%, traguardo minimo da raggiungere subito, di raccolta differenziata dei rifiuti domestici. Per quanto riguarda gli anziani e le persone in difficoltà, i nuovi contenitori saranno consegnati direttamente al domicilio, per tutti gli altri saranno comunicati luoghi e giorni in cui presentarsi per il ritiro. Alle case singole saranno assegnati bidoni marrone, blu e verde e sacchi gialli e trasparenti. Leggermente diverso il discorso per i condomini, alcuni contenitori saranno comuni, in prima linea dunque gli amministratori che dovranno aiutare nella gestione degli spazi e degli incarichi. Il condominio dovrà organizzare al proprio interno dei bidoni, dentro i quali tutti i condomini andranno a mettere l'umido, la componente umida, in un altro la componente di carta e nel terzo barattolame e vetro, mentre continueranno ad essere usati i sacchi per la plastica e per l'indifferenziato che noi vorremmo proprio essere ridotto al minimo. Ancora da definire giorni e orari della raccolta di sacchi e bidoni, in linea di massima per vetro, carta e plastica il conferimento sarà settimanale, mentre per i rifiuti organici ci saranno due o tre passaggi ogni settimana. E non mancherà l'apporto tecnologico, in caso di dubbi su come dividere i rifiuti ci sarà pure l'immancabile app che in tempo reale indicherà al cittadino in quale contenitore gettare eventuali materiali non facilmente identificabili. Dal 3 giugno, come detto, si partirà con la rivoluzione e contestualmente spariranno le campane del vetro. L'avvio del nuovo sistema segna un cambiamento importante che richiede la collaborazione dei cittadini chiamati a fare qualche sforzo in più nell'interesse di tutti, ha detto il sindaco di Como, Mario Lucini. Altra novità legata alla nuova raccolta sarà l'incremento del personale addetto alla pulizia e lavaggio delle strade.